Parliamo di te, che fai una roba un po' più particolare, da Lecce, giusto? Sì. Dimmi tutto. Devi usare questo? No, vai. Io invece produco e vendo server e spazi web per tutti i ragazzi e le start-up che... Tanto per cui sei tu hai 16 anni? Sì, ho 16 anni. E ti chiami? Antonio Scarnero. Stai a Lecce? Sì. In un'altra scuola notevole, tra l'altro. Sì, il Costa di Lecce. Esatto. E che cosa fai? Cosa produci? Server e spazi web li vendo online. Senti, com'è che a un certo punto, a un a 15 anni, gli viene in mente di vendere spazi web? Perché è una cosa di cui io sentivo la necessità. Perché tu cercavi di comprare, di avere dei siti e ti rendevi conto che costavano molto l'hosting dei siti? Esatto, erano troppo sovradimensionati per quello di cui avevo bisogno e anche troppo costosi. Cioè per fare un piccolo sito spendevi troppi soldi? Esatto. E quindi tu oggi vendi spazi per piccoli siti? Sì, siti, applicazioni, di tutto. Senti, è già un'azienda? Sì. Che cosa hai imparato da questa esperienza? Cioè tu riesci a conciliare lo studio e il lavoro? Perché ovviamente non hai lasciato la scuola. No, non ho lasciato la scuola, anzi è la scuola che mi dà la forza, l'opportunità di continuare la mia esperienza, perché appunto essendo minorenne è la scuola che mi dà la possibilità di vendere i miei servizi. Guardate che quello che accade qui in questo liceo è particolare, liceo è l'istituto tecnico, il costa, perché in realtà il professore che guida tutta questa cosa, che si chiama? Professore Daniele Manni. Grandissimo, professor Daniele Manni, ha costituito una cooperativa che di fatto fa l'incubatore di start up degli studenti, cioè visto che loro non lo potrebbero fare per età, è la cooperativa della scuola fondamentalmente, che vi fa da acceleratore per le vostre idee? Sì. Senti, come sta andando? Sta andando benissimo, per un ragazzo di 16 anni mi ritengo enormemente soddisfatto. Enormemente, anche se poi i numeri sono ancora piccoli, lei che sei diventato, non sei Zuckerberg, non hai fatto Facebook ancora? No, assolutamente. Di che numeri parliamo? Parliamo di uno stipendio medio. Quindi tu già c'hai il tuo stipendio, cioè i tuoi non ti danno nessuna paghetta oramai? Sei autosufficiente? Sì. Senti, il tuo ufficio dov'è? Io, il mio ufficio non ho... Cioè il tuo ufficio è la tua stanza, la tua camera a casa? Sì, è la mia stanza e anche la mia scuola. Ah, quindi la scuola ti dà una stanza dove puoi gestire queste cose per il professore. Professori, guardate, è così bello, è così facile, provateci. Se non lo sapete come si fa, si chiama Daniele Manni, che tra l'altro è un professore super disponibile e si comincia. Dimmi te cosa ti porti a casa da questa giornata? Per me questa è un'enorme esperienza. Ti ringrazio appunto per avermi invitato, perché si capisce che c'è voglia di fare tra i giovani, perché i giovani che sono qui e tutti quegli altri giovani d'Italia devono e possono cambiare tutto. Mi piace da morire? Dovete cambiare tutto e dovete farlo voi. Dovete cambiare tutto e dovete farlo voi.